Sì, lo so, sono in ritardo, ma ho trovato modo per farvi perdonare. Arrivo, arrivo, arrivo! Per questo San Valentino qualche consiglio anche per le ragazze più giovani e per chi vuole un look un po' sbarazzino. Da sempre lo stile Lolita intriga molto l'immaginario maschile, valorizza pienamente anche le fisicità meno prosperose. L'innocenza e un touch di ironia stanno alla base di questo mood. La regola fondamentale è divertirsi, quindi giocare. Per uno stile un po' romantico potete scegliere il pizzo sangallo, bianco, tassativamente, magari anche con dettagli a contrasto rossi come nastrini e fiocchetti. Se poi volete un po' esagerare con il vostro look, allora abbinate anche dei reggi calze o delle calze autoreggenti, chiaramente sempre in tono bianche, per un effetto un po' infermiera. Se vi sentite invece un po' più collegiali, magari alla Gossip Girl, potete andare su microcompleti a fiorellini oppure canottierine abbinate a culotto, a mutandine a vita bassa, da abbinare a calze scozzesi alte fino al ginocchio. Per uno stile un po' più rock'n'roll e caramelloso, mi viene da dire, pensando ai colori confetto, eccetera, potete fare riferimento al video di Cristina Aguilera, Candyman, dove indossa una microgonna rosa, magari da mettere con delle scarpe Mary Jane, col tacco alto di vernice e un reggi calze. Gli altri colori che sicuramente funzionano benissimo per questa tipologia di intimo sono il fucsia e le tinte fluo. Mi raccomando, non fossilizzatevi su completini sempre abbinati, ma spezzate, fate i vostri abbinamenti in base alla vostra personalità. Per andare a letto potete scegliere dei super sexy pagliaccetti di seta, come questo per esempio. Se l'età e la lure ve lo consentono, potete anche esagerare un po', scegliendo tulle fluo arricchito dai cristalli. Se sapete prendervi in giro abbastanza, potete andare anche su perizomi con piume. Oppure su culotte con ruche leopardate. Se avete poco seno, andate su Registiene Triangolo e scegliete Trasparenza e Fiorellini. Tra gli accessori che completano il Look Girl è sicuramente occhiali da sole a forma di cuore, piccole tiare da principessa, macro bijoux a forma di dolci o di cuccioli, cerchetti di vernice colorata, e da tenere in casa delle ballerine di velluto, magari anche colorate. Per il trucco il mio consiglio è di andare sugli occhi con dell'eyeliner colorati, con delle tinte strong, tipo verde acqua fluorescente o fucsia. Di colorare un pochettino le gote per farle rosate e magari utilizzare dei gloss tinta fragola sulle labbra. Per quanto riguarda i capelli, teneteli pure sciolte oppure giocate con code e codini. Grazie. 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 Grazie.